Dopo il successo di Lecce e Bari, dove si è registrato il tutto esaurito, sono tornati ancora una volta nell'auditorio della Guardia di Finanza di Spreng, i 50 dipendenti e un importante gruppo bancario che si sono messi insieme per una buona causa, sostenere il progetto di umanizzazione del reparto oncologico dell'ospedale di Veneto. L'appuntamento di venerdì scorso 31 maggio 2013 ha calcato le scene in un musical esilarante dal titolo My Fire Bank. Gli Sped sono un gruppo di colleghi e amici, tutti bancari, con passioni e capacità artistiche che hanno ritenuto utile creare un legame tra l'essere seri e bravi professionisti durante la giornata lavorativa e l'essere sensibili artisti appena fuori dal lavoro. Il filo comune è quindi la passione che li unisce ed il desiderio di esprimersi non solo in ambito professionale. In breve, le passioni sono diventate azioni e da qui il motto del gruppo, passioni in azione. Quest'anno gli spread possono beneficiare della straordinaria collaborazione di Sergio Rubini, regista e attore pugliese. Sergio ha apprezzato la bontà del progetto ed ha offerto loro un valido supporto supervisionando lo spettacolo del 2013. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, mentre il progetto tecnico dell'area di accoglienza del reparto di umanizzazione è stato realizzato dall'ingegnere Orlando Andriani.